Il 31 gennaio 2024 alle ore 17 nel Salone della Provincia si terrà la consegna del premio Ettore Cozzani, un premio che va proprio a riconoscere il merito di quei ragazzi che si stanno impegnando per portare avanti la memoria e la cultura. Esatto, è la seconda edizione del premio e è sempre rivolta a giovani, studenti, che si impegnano nel ricordo della vecchia eroica nata nel 1911 e durata fino al 1944, che si impegnano nella nuova rivista digitale che poi in parte è stata già edita su carta stampata e per il loro contributo essenziale di raccordo tra il mondo di Ettore Cozzani, prima metà del Novecento e i tempi di oggi e il futuro. Saranno premiati sei ragazzi del liceo Costa che hanno dato un contributo fattivo all'ultimo numero con contributi di vario genere, sia di ricerca storica che di grafica, letteraria, eccetera. In più, come annunceremo comunque, che sarà un anno speciale perché sono i 140 anni dalla nascita di Ettore Cozzani e quindi faremo ulteriori manifestazioni al di fuori del programma ordinario. Questo premio attribuisce il merito a quei ragazzi che si sono impegnati e hanno utilizzato il loro periodo di alternanza scuola-lavoro per imparare qualcosa di nuovo, ma anche per portare avanti la cultura in città. Sì, diciamo che questo progetto nasce l'anno scorso, come preso PCTO, dove i ragazzi hanno partecipato alla realizzazione di questa rivista di fotografie, grafica e anche testi scritti molto interessanti che la Commissione ha deciso di premiarli perché hanno reso questa rivista ancora più interessante dal punto di vista culturale e ha dato spazio a questi giovani del classico a esprimersi all'interno di una pubblicazione della nuova eroica che è stata pubblicata quest'estate. Ci sarà però spazio anche per la musica, per la recitazione e anche per un'ulteriore premiazione. Certo, la musica ad altissimo livello sarà un'interessantissima lezione, concerto da parte del professor Giuseppe Bruno che ci parlerà proprio dell'eroica, non l'eroica di Cozzani ma l'eroica di Beethoven e ci parlerà della nascita di una sinfonia suonando brani e spiegandoci come il tema dell'eroica sia diffuso all'interno di tutta l'opera di Beethoven. Io leggerò dei brani tratti dalla rivista Eroica che parlano della musica classica. Il pomeriggio ci sarà il premio La Carriera per Mirella Raggi e per le sue opere da parte del premio Ettore Cozzani.